Continua il tour in trasferta della Nissa. Dopo le entusiasmante vittorie a Trapani contro l'Accademia, la capolista farà visita all'Atletic Club Palermo nella sfida della non aggiornata del campionato di eccellenza Girone A. La partita è in programma sabato 4 novembre alle 14.30 allo stadio Favazza. Per il sodalizio biancoscudato, un'ulteriore prova indicativa contro un avversario certamente di qualità e con ambizioni di alta classifica. La società palermitana infatti quarta e ha tutta l'intenzione di restare stabilmente all'interno della zona playoff. La Nissa dal canto suo non ha alcuna voglia di arrestare la sua luna di miele con il Girone A che la vede prima in classifica con sette vittorie e un solo pari. Numeri da record per la società nissena che medita di migliorarsi proprio contro l'Atletic Club. Questo il programma della non aggiornata di eccellenza Girone A. Sabato 4 novembre alle 14.00 Aspra Casteldaccia. Alle 14.30 Palermo Nissa. Castellammare Don Carlo Misilmeri. Supergiovane Profavara. Domenica 5 novembre alle 14.30 Folgore Geraci. Alle 15.00 Fulgatore Mazzara 46. Mazzara Unitas Sciacca. Oratorio San Ciro e Giorgio. Accademia Trapani. Nel Girone B di eccellenza è tempo di big match per il Città di Gela che nel salotto di casa ospiterà la capolista Modica. La partita sarà valida per la non aggiornata e si disputerà domenica 5 novembre alle 15.00 allo Stadio Presti di Gela. Partita attesissima da tutto l'ambiente. L'eventuale vittoria consentirebbe al sudalizio bianco-azzurro di ottenere il primato in classifica superando proprio il Modica. Città di Gela reduce dal pari nel campo degli mesi mentre per il Modica brutta sconfitta nello Stadio Amico contro il Santa Croce. Questo il programma del Girone B di eccellenza della nona giornata. Sabato 4 novembre alle 14.30 Mister Bianco Enna, Real Siracusa Milazzo, alle 15 Santa Croce Messana, domenica 5 novembre alle 14.30 Ionica Leonfortese, Leonzio Mazzarrone, alle 15 Città di Gela Modica, Nebros Imesi Atletico Catania, Chiude Paternò Rocca Acque Dolcese.